Questa settimana ammiriamo le carte di Ultra Necrozma GX direttamente dalla sesta espansione di Pokémon Sole e Luna e dell'Ultra Pattuglia in versione d'illustrazione estesa Niente male Ed eccoci ritornati come ogni domenica con le PN News la raccolta delle notizie più importanti a tema Pokémon Nintendo degli ultimi sette giorni Vediamo dunque cos'ha in serbo per noi la settimana appena trascorsa Philippe Lavoe, presidente di Nintendo France si è nuovamente espresso riguardo l'argomento 4K e VR Ecco a voi il suo pensiero Siamo molto pragmatici Guardando gli headset VR ho dubbi riguardo la possibilità che riescano a sedurre il pubblico I consumatori non sono pazienti con l'intrattenimento a meno che non si offra a loro una soluzione completa Quanto al 4K dovremmo investire in una tecnologia che non è ancora adottata ampiamente Dove sono gli schermi 4K al giorno d'oggi? Dovremmo investire prima che i consumatori abbiano adottato la tecnologia? Non possiamo investire ovunque E cosa ci sarebbe di nuovo rispetto ai competitor? Se facessimo la stessa cosa di altri saremmo destinati a morire perché siamo più piccoli di loro A quanto pare quindi Nintendo per il momento non ha intenzione di concentrarsi su questo campo e quindi a parer nostro saggiamente continuerà a sfruttare i livelli di tecnologia attualmente più comuni fra le persone Dopo due mesi dall'annuncio fatto dall'account Twitter di Project Eevee si è finalmente scoperto cosa si celava dietro quest'ultimo Infatti molto presto il Pokémon Evoluzione Eevee affiancherà Pikachu per diventare la nuova mascotte di The Pokémon Company Su Twitter Project Eevee ha anche pubblicato alcune scenette del piccolo Eevee molto buffe Il Pokémon Evoluzione è diventato famoso soprattutto per via della sua unicità di aver ben otto evoluzioni ognuna diversa dall'altra Inoltre in Giappone vi sarà la possibilità di incontrare la creatura attascabile nei Pokémon Center e al festival di Yokohama Pikachu Outbreak Direi che questa che è cominciata è una vera e propria rivalità tra mascotte il Pokémon Evoluzione Eevee contro il Pokémon Topo Pikachu Chi vincerà secondo voi? Come già annunciato qualche giorno fa Nintendo avrebbe pubblicato un video riguardante ad un grande annuncio per adulti e bambini E così è stato Infatti è stato annunciato Nintendo Labo un nuovo kit da gioco per Nintendo Switch che sarà disponibile in due versioni per tutto il mondo il giorno 27 aprile 2018 Il tutto si basa sull'idea di trasformare dei pezzi di cartone specifici in qualsiasi cosa che possa interagire con la console Monta, gioca e scopri E questo è il motto di Nintendo Labo che è sicuramente un'idea innovativa e mai vista prima Ma voi che ne dite? Inoltre grazie a GameStop che ha subito aperto i preordini anche nel nostro paese veniamo a conoscenza del prezzo ufficiale in euro La prima configurazione ovvero il kit assortito costerà 69 euro e 98 e potremo creare macchinine RC canne da pesca, case, moto ed infine dei pianoforti Il secondo kit invece chiamato kit robot costerà 79 euro e 98 e potremo creare il robot Toy-Con Acquisterete uno di questi kit? Se sì, quale? Il 2018 sarà un anno leggendario Infatti qualche giorno fa sono state annunciate da The Pokemon Company International una serie di distribuzioni di Pokemon leggendari Nel comunicato stampa vengono elencate tutte le distribuzioni per i giochi di settima generazione Ma non solo Questa iniziativa sarà anche dedicata ai giochi mobile e al gioco di carte collezionabili Quest'anno ogni mese a partire da febbraio e fino a novembre saranno disponibili Pokemon leggendari diversi da scaricare gratuitamente tramite uno dei tanti partner del marchio per tutti i giocatori di Pokemon Ultra Sole, Ultra Luna, Sole e Luna per le console della famiglia Nintendo 3DS Il 2018 ha in servo per i giocatori del gioco di carte collezionabile Pokemon tantissimi prodotti leggendari incluse nuove collezioni carte Pokemon GX e molto altro Inoltre i giocatori di Pokemon Go invece avranno la fortuna di imbattersi in speciali Pokemon leggendari nel 2018 per celebrare l'iniziativa leggendaria di quest'anno Ma non è finita qui Ogni mese l'app TV Pokemon disponibile per dispositivi iOS e Android Programmerà un diverso film Pokemon collegato ai Pokemon leggendari della distribuzione del mese in questione Per esempio il film Pokemon La scesa di Darkrai in cui appaiono di alghe e palchia sarà disponibile nell'app nel mese di febbraio stesso mese nel quale verranno appunto distribuiti di alghe e palchia Cosa ne pensate di questa particolare iniziativa dedicata ai Pokemon leggendari? Detective Pikachu per Nintendo 3DS è ora preordinabile anche su Amazon al prezzo di 39,99€ L'amiibo speciale in edizione limitata di Pikachu dalle dimensioni aumentate rispetto ad un amiibo normale sarà invece acquistabile al prezzo di 29,99€ E voi siete pronti per risolvere i casi più disparati in Detective Pikachu in arrivo il 23 marzo A quanto pare secondo quanto dichiarato da Junichi Masuda Game Freak sarebbe interessata allo sviluppo della realtà aumentata e del riconoscimento vocale per i propri giochi Ovviamente il notissimo direttore di Game Freak non ha aggiunto altro e perciò al momento non si sa nulla in più Fatto sta che saremmo curiosissimi di vedere queste due tecnologie all'azione in un prossimo gioco Pokemon Magari chissà anche nel prossimo capitolo della saga su Nintendo Switch Voi invece cosa ne pensate? Vorreste che la software house adottasse queste funzionalità aggiuntive? Come vi immaginate un utilizzo della realtà virtuale su Nintendo Switch e Pokemon? Ben allenatori, cosa ne pensate delle notizie appena viste? Come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace di condividere il video con i vostri amici e di iscriverti se ancora non l'hai fatto Instagram ed altri social qui sotto in descrizione Qui da Diego è tutto Passate un buon domenico allenatori! Passate un buon domenico allenatori!